Ma perché si dice che il Molise non esiste? Sembrerebbe che nessuno ricordi il capoluogo della regione, ovvero Campobasso, oppure un piatto tipico come i maccheroni alla chitarra. Beh, un po' di colpa va anche alla geografia della regione, che non è famosa né per il turismo invernale né per quello estivo. E quindi il web ha preso questa regione di mira, con frasi come Ma voi con uno del Molise ci avete mai parlato? Ormai la voce si sparsa anche tra i turisti stranieri, che ad oggi nutrono il desiderio di visitare questa regione, proprio per accertarsi se esiste veramente. E nel giro di pochi anni questa regione è passata dall'anonimato a diventare un fenomeno nazionale. Ma per i molisani l'espressione il Molise non esiste non è di certo offensiva, anzi è diventato ormai lo slogan della regione. E se siete di passaggio ricordatevi di acquistare questo fantastico souvenir. Sono alla stazione di Termoli. Qui inizia il Giro del Molise. Il tempo non è tra i migliori ma speriamo che tenga. Perfetto. Il tempo non è tra i migliori ma speriamo che tenga. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.